E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano Direi anche finalmente, scusate se c'è stato questo periodo di inattività la scorsa settimana ma come ben sapete io sono un ragazzo universitario e di conseguenza gennaio-febbraio è davvero lo scoglio più grande di ogni studente perché ci sono gli esami e di conseguenza non si ha neanche il tempo di dormire purtroppo ma non perdiamoci in chiacchiere, siamo giunti alla fine di gennaio 2018, il primo mese dell'anno e voglio portarvi una grandissima applicazione per chiusura di questo grande mese che speriamo sia un mese che auspichi un ottimo inizio d'anno di conseguenza voglio parlarvi di un'applicazione che sto provando da circa 30 giorni e sto parlando di un'applicazione di Google che ci permette di guadagnare qualcosa in termini monetari ovviamente ragazzi attenzione, nella vita nessuno ti regala nulla se non fai nulla di conseguenza stiamo parlando di speciali, all'incirca ho guadagnato in un mese 5 euro adesso sono un'altra volta 75 centesimi di credito sì stiamo parlando praticamente di centesimi, centesimi che però possono essere spesi in due modi o con acquisti di applicazioni sul Google Play Store oppure con acquisti di giochi o meglio di acquisti in app all'interno dei giochi ad esempio vi mostro subito quello che diciamo si riesce a fare con questa applicazione qui sulla mia destra nella clip girata precedentemente come potete vedere l'applicazione si chiama Google Opinion Rewards una volta aperta la schermata è praticamente base infatti noi notiamo subito praticamente al centro un credito che inizialmente risulterà a zero e che a sinistra di praticamente dell'applicazione possiamo cliccare una banda che ci porta nelle impostazioni delle app in cui possiamo semplicemente attivare o disattivare le notifiche nel momento in cui accendiamo l'applicazione per la prima volta il credito ovviamente risulterà a zero ma ci sarà un sondaggio iniziale per vedere se noi mentalmente siamo capaci di sostenere un sondaggio questo bene o male è un problema vostro quindi penso che siete tutti mentalmente capaci di rispondere sì e no o vero o falso ad alcune domande dopodiché più il sondaggio sarà lungo più guadagneremo qualcosa di soldi esempio 7 domande mi hanno permesso di guadagnare 75 centesimi 20 giorni fa 15 domande mi hanno fatto guadagnare 1,50 euro ovviamente il sondaggio non possiamo decidere noi quando farlo è Google che ci invia una notifica e con la notifica ricevuta da Google basta cliccare su di esse per accedere direttamente a un sondaggio che si risponde praticamente in pochi minuti io ho guadagnato 5 euro in 30 giorni il che significa che bene o male c'è un sondaggio alla settimana infatti questi 75 centesimi di credito che notate adesso sono stati fatti praticamente 3 giorni fa prima proprio della registrazione in pratica ovviamente c'è da specificare che questi soldi possono essere spesi quindi sul Google Play Store con l'acquisto di un'applicazione oppure ad esempio come vi mostro all'interno della clip sempre sulla destra possiamo accedere ad uno dei nostri giochi preferiti io per esempio gioco a Clash of Clans e all'interno del negozio di Clash posso acquistare ovviamente delle 2M quindi acquisti in applicazione, acquisti in app ditti per l'appunto e esce la spunta, paga in parte col 75 centesimi di credito che abbiamo compilato praticamente guadagnato con i sondaggi quindi è una cosa abbastanza carina, semplice e che vi consiglio assolutamente di tenere sul telefono perché fondamentalmente è un'applicazione che occupa semplicemente 4 MB di conseguenza è un'applicazione che non dà fastidio, non resta in memoria RAM e quindi resta lì quando arriva una notifica fate il sondaggio e vi guadagnate quell'euro che poi potete spendere come meglio credete per esempio in nuova launcher, in giochi stessi, all'interno di applicazioni per scaricarvi le versioni premium e quant'altro, penso sia una cosa carina in un mese o qualcosa di soldi lo si fa e quindi è tranquilla come situazione inoltre c'è da considerare che come potete sempre notare possiamo andare sul Play Store, aprire una qualsiasi app a pagamento cliccare su acquista e ci esce sempre lo sconto in questo caso di 75 centesimi quindi ragazzi, questo per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto, vi sia riso utile e soprattutto bombardatemi di like mi raccomando, non voglio dislike semplicemente per il fatto che non vi farò guadagnare milioni con questo metodo ma purtroppo neanche Bill Gates potrebbe farvi guadagnare milioni senza far nulla e conseguenza lasciate un bel pollice in su e soprattutto ragazzi ci vediamo come sempre domenica in un prossimo video in descrizione vi ricordo il link all'applicazione il link al mio canale Telegram e il link alla mia pagina Facebook qualora vogliate entrare in contatto con me o con altri utenti appassionati di tecnologia ciao ciao